La Farnesina riafferma il proprio impegno nella tutela dei diritti delle persone LGBTI. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, il 20 maggio si è tenuto l'evento Le nuove sfide del contrasto all'omofobia, organizzato dal Comitato interministeriale per i diritti umani, insieme a Lunar e all'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, che ha presentato il suo ultimo rapporto focalizzato sulla dimensione professionale delle persone LGBTI. Il Ministero degli Esteri sostiene e promuove numerose iniziative, sia al suo interno per un contesto lavorativo inclusivo e non discriminatorio, sia in ambito UE e ONU. È un impegno che parte da questo Ministero, per quel che ci concerne naturalmente. Noi abbiamo, con l'Associazione Globe e Mae, nei tempi più recenti, avviato una discussione, un confronto per rendere all'interno dell'amministrazione e del Ministero le persone LGBT nella pienezza dei loro diritti, anche in un lavoro che ha profili particolari, spesso come quello di chi lavora al Ministero degli Esteri. In sede italiana abbiamo recuperato un ritardo che era diventato una discriminazione inaccettabile sulla regolamentazione e sul riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali. Sul piano europeo lavoriamo per andare sempre più avanti. Il focus di oggi è sulla condizione delle persone LGBT nei suoi luoghi di lavoro. Dobbiamo fare di più in Europa per essere credibili fuori.